Dopo oltre sei anni d'attesa, finalmente l'ospedale Caracciolo d'Agnone ha di nuovo una TAC. Stamattina l'inaugurazione della tomografia computerizzata all'avanguardia alla presenza del presidente della regione Molise, Francesco Roberti, e del direttore generale dell'ASREM, Giovanni Di Santo, un passo in avanti verso il potenziamento del presidio di area disagiata, scartando le ipotesi di ridimensionamento e riconversione. È una TAC innovativa, è una TAC 128 strati, è una TAC che è dotata di una riduzione delle possibilità di radiazione per tale motivo fruibile anche dai bambini, è una TAC che può sopportare pesi anche importanti superiori ai 200 kg, quindi anche per i pazienti obesi. Insomma, una TAC innovativa, una TAC al passo con i tempi, una TAC che servirà per fare diagnostica, una TAC che servirà per garantire il recupero delle liste d'attesa e anche una mobilità attiva verso Agnone. Stiamo ridisegnando intanto la sanità molisana con una focalizzazione e un'attenzione peculiare sulle zone di confine. Agnone sicuramente sarà valorizzata al massimo, cercando di portare qui delle specifiche specialistiche, in modo tale da garantire un plafond di offerta sanitaria sanitaria, varia anche in regione della necessità di evitare le fughe all'esterno. Un ospedale sempre più attrattivo, quello da Agnone, che a fine luglio vedrà anche l'inaugurazione della nuova mammografia. L'obiettivo, secondo il presidente Roberti, è di dotare di nuovi posti letto il nosocomio per superare le liste d'attesa e rendersi sempre più attrattivi verso l'Abruzzo. Il prossimo passo andiamo a sistemare quelle sale operatorie che abbiamo tutto sommato e che in qualche maniera va rivisitata qualcosa e quindi adeguata a qualche normativa nuova in modo tale che può essere usufruita dal personale medico, ma soprattutto ora dobbiamo partire anche con rafforzare il personale medico dell'ospedale. La mancanza di personale medico resta il principale nodo da sciogliere, problematica che riguarda tutta la sanità molisana, ed Agnone chiedono professionisti ed altre figure professionali ad hoc. Io faccio un appello a chiunque voglia venire qui in Agnone, le strumentazioni ci sono, la volontà di investire qui in Agnone c'è, quindi anche agli agnonesi o ai molisani che sono fuori da questo territorio, credo che se vogliono rientrare e dare una mano alle popolazioni che continuano a resistere su questi territori e che vedono un futuro in questi territori, io credo che faranno una buona cosa. Abbiamo gravi carenze di personale, nello specifico più sulla dirigenza medica, ma anche il personale infermieristico di supporto, il personale tecnico ha le gravi carenze che tutti conosciamo, nello specifico noi oggi andiamo a vedere una TAC che deve essere messa in funzione, ma c'è una carenza di personale tecnico che la faccia funzionare e poi bisogna vedere se i medici riescono a rifiutare a distanza con la tecnologia di telemedicina.